In edicola dal 4 settembre 2020, i miti e le leggende eterne della cultura nordica, in un'edizione destinata a diventare un grande classico. Una collezione esclusiva, edita dalla casa editrice RBA. I miti e le leggende nordiche raccontate in avvincenti versioni create ad hoc, basate sulle ed e su altre fonti originali, arricchite da splendide illustrazioni e pregiati freggi isperati all'arte vichinga. Storie organizzate in saghe, quella di Thor, di Odino, di Solfrido, che rappresentano l'intero mondo mitologico. Racconti epici, personaggi memorabili, un universo fantastico divenuto nel tempo uno dei pilastri della cultura europea. Volumi preziosi, curati in ogni minimo dettaglio, con illustrazioni suggestive che combinano in maniera sapiente la modernità con l'eredità dei grandi illustratori classici. Un alfabeto di capilettera disegnato appositamente per la collana, con disegni, freggi e decori ispirati all'estetica dell'arte vichinga del X secolo, con brevi saggi che accompagnano ogni mito e rivelano l'affascinante storia e la cultura viching. La prima uscita Thor ha un prezzo di bilancio di 1,99€ e la seconda prevede due volumi al prezzo di uno, Loki e Odino. Le prime cinque uscite avranno periodicità quattordicinale, successivamente la periodicità sarà settimanale. Per ricevere tutti i volumi è possibile sottoscrivere un abbonamento sul sito www.mitologianordica.it e scoprire gli sconti e i regali esclusivi inclusi nell'offerta. L'intera collezione si compone di 69 uscite per un totale di 70 volumi. www.mitologianordica.it 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 Grazie a tutti.